Torna il Vallo Perduto, la rubrica di tale due alla scoperta dei luoghi e delle storie perdute del Vallo di Diano e non solo. Questa volta andremo a Montesano sulla Marcellana a conoscere il convento, o meglio, il quasi convento dello Scialandro. Si tratta di una costruzione mai conclusa degli anni 50 e ora a visitarla si prova fascino, inquietudine e anche rammarico, ma per capire bene quali sono i sentimenti per poter affrontare questo viaggio che faremo nel TG di questa sera e sulle nostre pagine social, guardiamo quest'anteprima. Grazie a tutti.